vediamo un po di temi che mi interessa sviluppare insieme a voi della settimana appena conclusasi in casa wwe prima di partire lasciate un mi piace al video e ricordatevi di seguire il canale se ancora non lo state facendo allora uno la vittoria dei titoli tech team di katana science di caden carter arriva un po come un fulmine a ciel sereno perché la federazione non ha mai dato una seria vetrina alle squadre femminili promosse da nxt ad esclusione del lavoro svolto a loro beneficio da ronda rousey ciò premesso e ormai assodato che in questa divisione raramente si andrà oltre al noi voi cinture sembrano esserci i presupposti per cercare di dare un piccolo rilancio a tutto l'ambiente con diverse squadre interessate alle corone e con match up ancora poco battuti tra quelli da proporre le kabuki warriors natalia tigan nox alba fire e il adon le ex campionesse chelsea green e piper neven magari anche maxine ivy nyle beh insomma è un bel sacchetto dal quale pescare le biglie quindi ho come la sensazione spero di non sbagliarmi che questo cambio della guardia possa essere il mattone giusto dal quale ricostruire due gunter contro demise da dieci in pagella col super vip di nuovo protagonista di un match emozionante come forse non gli accadeva così da tanto tempo pensateci un attimo qual è stato prima di questo un match di demise che vi ha coinvolto così tanto tutto il contrario ahimè della solita zuffa tra cody roads e shinzuke nakamura con la rissa senza quartiere interrotta dalla sicurezza che anche nei roster principali è il marchio di fabbrica ricorrente della visione creativa di triple h visto che ne abusava già quando dirigeva nxt questa qui però è una zuppa già mangiata e forse anche sin troppo tre ho trovato un po strana l'inversione a u di drew mckintyre che da uomo delle scomode verità è passato a voler vincere il titolo di set rollins come garanzia che i suoi sacrifici e la lontananza patita verso i suoi cari verso i suoi familiari siano serviti a qualcosa nel senso sono temi che puoi sollevare che puoi cavalcare ma non se hai già vinto un titolo non se sei già stato in cima alla montagna e per questo io digeriti male lo scontro verbale è stato piacevole però mi è sembrato davvero molto distante dalle premesse stese nelle settimane precedenti tra i due e mi ha spiazzato quindi non so ancora come interpretarlo però ho come l'impressione che sia un mezzo passo indietro 4 provocazione ma a che è servito mandare i fratelli creed così presto per le cinture se durante il match non è accaduto poi niente di così importante ai fini degli sviluppi narrativi nessun litigio o un malinteso tra quelli del judgment day e alla fine il gruppo è ancora lì che oscilla come prima dalla stiamo per darcere al volemmo se bene dal gd mcdonagh è fuori al no dai scherzavo certo è una difesa importante delle corone ed è esperienza in più per i creed in un posto importante della card ma in generale le mie aspettative non di risultato ma di sviluppo della situazione erano diverse ma parecchio diverse che dite sono troppo critico 5 frontes mcdon beh mi piace questo age styles dal look diverso cupo introverso più serio più motivato con tunnel vision che addirittura in qualche modo ignora o è freddo di fronte agli ex amici del club del suo club lo si credo che sia l'inizio di un rebuilding di immagine di cui ha disperatamente bisogno via il solito costume dentro questa versione più moderna tuttavia c'è anche un rovescio della medaglia ovvero che il match che ha poi disputato contro solo si coa è stato per me nettamente al di sotto dei suoi abituali standard ci sono chiaramente molte giustificazioni dalla ruggine da inattività alla scarsa conoscenza dell'avversario però dai dal fenomenale gli vogliamo bene sappiamo quanto vale ti aspetti sempre qualcosina di più 6 so che verrò biasimato nei commenti ma non ho poi tanto apprezzato nemmeno la prestazione di carmelo ace che alla fine ha fatto la figura di uno dei tanti sostituibile con altri simili senza lasciare qualcosa di particolarmente unico nel quadrato e anche lui protagonista di una sfida macchinosa e molto disordinata nel ring ha eseguito un paio di mosse ad alta difficoltà questo gli va riconosciuto ma per fortuna che c'era l'infortunio alla mano di kevin owens a portare avanti la baracca quasi solo per iniziativa del canadese perché sul resto si è visto quanto male stia preparando al momento nxt le sue star al salto di qualità la ricerca della mossa complicata della mossa da wow va ad inficiare tutta la costruzione ragionata del match per me non ci siamo non ci siamo proprio 7 sono invece molto contento degli attriti e della competitività tra styles randy horton e dalle knight anche se quest'ultimo nelle scorse settimane si era improvvisamente dimenticato almeno in parte dei suoi obiettivi con questi tre l'uno alle calcagna dell'altro per ottenere il diritto ad affrontare roman reigns attriti che si tramuteranno in una grande sfida ad inizio anno io sono già qua che l'aspetto e ho visto anche privatamente molti di voi mi state chiedendo chi vince o chi dovrebbe vincere perché ci sono due livelli di lettura chi vince pronostico chi dovrebbe vincere a seconda del best case scenario è quello che a noi fan fa più piacere seguire ditemelo magari nei commenti tra l'altro ho trovato anche esilarante come il capo tribù riceva nel backstage un 2 di picche danni caldis che non si fa sottomettere psicologicamente dal samuano e ribadisce la sua autorità sul roster in qualità di general manager con roman reigns che con la bocca ha una sorta di tic alla sheldon cooper che quando le cose non vanno come vuole inizia un po a sbarellare e qui credo che ne vedremo delle belle e con questo ho finito ricordatevi come sempre di iniziare i vostri acquisti su amazon dalla mia vetrina è un clic passivo trovate il link nella descrizione del video e ora spazio alle vostre opinioni come sempre con dita roventi qui sotto nello spazio dei commenti